Benvenuti a questo nuovissimo video! Oggi andiamo ad imparare alcune espressioni fondamentali per cavarsela al telefono in inglese. Lo so, lo so, lo so, non saranno sufficienti per riuscire a fare grandi figure di splendida competenza, però sono un inizio e d'altronde siamo tutti work in progress, da qualche parte dobbiamo partire. Prima di adentrarci nel cuore del nostro video ti invito ad iscriverti al canale cliccando sul pulsante rosso che vedi qui sotto perché è l'unico modo per ricevere una notifica ogni volta che esce un nuovo video e non vuoi perdertela! Uno dei miei primissimi lavori da stagista consisteva nel chiamare una lista infinita di aziende da tutto il mondo per vendere loro spazi pubblicitari nei nostri siti web. Ora non solo non avevo la minima preparazione sul mondo della pubblicità digitale e meno ancora sulle vendite ma il mio inglese parlato era davvero pessimo. Non ho mai ricevuto così tanti insulti letteralmente e no come in quel periodo. Fortuna devo dire che in molti casi non li capivo completamente, però una cosa è certa se avessi saputo alcune espressioni in inglese per gestire almeno un minimo la mia comunicazione sicuro me la sarei cavata un pochino meglio. Ecco perché in questo video ti propongo alcune espressioni chiave in inglese che possono a mio avviso salvarti la vita durante una chiamata di lavoro che sia al telefono o su Skype. Ora partiamo dal presupposto che è inevitabile che quando non padroneggiamo bene una lingua qualunque lingua sembriamo un po' scemi quando parliamo ok? E questo insieme alle figure di meravigliosa incompetenza ahimè non si può evitare del tutto. Si può però un pochino ridurre. Prima di tutto quando ti presenti al telefono non dire mai good morning I am Cecilia. In italiano diciamo ciao sono Cecilia anche quando rispondiamo o tiriamo sulla cornetta ma in inglese questa espressione al telefono si traduce con hi this is Cecilia or hi Cecilia here and then may I speak to the person I need to speak to posso parlare con la persona con cui dobbiamo parlare. Presentarti con I am e il tuo nome setta le fondamenta della tua conversazione in gelatina perché la persona che è dall'altra parte della cornetta o di Skype magari super indaffarata e senza molto tempo da perdere potrebbe non solo non capire quello che stai dicendo ma addirittura infastidirsi. Trust me been there done that. Fidati ci sono già passata. Secondo fissa bene a mente alcune espressioni fondamentali per aiutarti quando non capisci. Prima però voglio condividere con te una storia un po' personale. Quando mi trasferì a Londra per imparare l'inglese facendo la cameriera avevo distribuito volantini ovunque volantini di carta cioè i miei curriculum a tutti i ristoranti che mi capitassero sotto mano. Ricordo a fine settimana di essermi sentita così stanca ma così contenta e soddisfatta per aver girato l'intera città alla ricerca di un lavoro. Ora bastava solo aspettare mi avrebbero chiamato. Qualcuno mi avrebbe chiamato. L'unica minuscola cosa che non avevo affatto considerato era che mi avrebbero chiamato al telefono e al telefono la sfida sarebbe stata molto più difficile. Cominciai a sperare che non mi chiamasse nessuno e in un certo senso, gli scherzi che fa la paura, fui quasi accontentata perché ricevetti una sola chiamata e tutta tremante risposi sperando di riuscire a cavarmela del tutto. Capì quasi tutto della prima parte della chiamata. Capì che dovevo presentarmi il giorno successivo alle nove di mattina in punto. Poi venne il momento di capire quale fosse questo posto. Ne avevo girati talmente tanti che non avevo la più pallida idea di quale fosse quello che mi stava chiamando. Chiesi il nome del ristorante una, due, tre, quattro volte Please repeat! Please you repeat! Davvero cercando di riuscire a capire almeno una parte della parola. Alla fine dissi che avevo capito per non fare la figura della scema. Peccato che per ovvi motivi non ho mai potuto cominciare quel lavoro. Conoscendo qualche espressione in più avrei potuto chiedere la stessa cosa diversamente per ottenere forse una risposta un pochino più comprensibile e chiara per me in quel momento. Vediamone alcune. Could you speak more slowly please? Potresti parlare più piano per favore? Could you repeat please? Potresti ripetere per favore? Could you spell that for me please? Potresti fare lo spelling per favore? Could you say it again please? Potresti dirlo di nuovo per favore? Avrai notato che non importa quale espressione io scelga non mancano mai il could e il please insieme. A volte ce li dimentichiamo perché siamo presi dalla foca di dover dire le parole giuste al momento giusto al nostro interlocutore e ci esce quasi un ordine speak more slowly oppure say it again. Could e please insieme sono i tuoi migliori amici in ogni tipo di conversazione non solo al telefono che sia un'email, una telefonata o un meeting di persona. Infine una delle sviste che io personalmente non ho mai fatto, almeno questa però ho visto fare molto spesso dai miei colleghi italiani, è chiudere la conversazione con have a great time. Have a great time significa letteralmente divertiti o divertitevi. Quindi non è sbagliato di per sé però rischia di essere percepito come una frase fuori contesto. Avrebbe senso quando per esempio incroci qualcuno che sta per andare ad una festa oppure sta per partire per le vacanze e dici have a great time at the party o have a great time in London. Quando chiudi una conversazione puoi farlo dicendo thank you for your time, have a great day. Oppure se vuoi essere ancora un po' più sofisticato puoi dire thank you for your time, have a great rest of your day. Lo so imparare una manciata di frasi non ci cambierà la vita, lo so bisognerebbe vivere nel posto per imparare la lingua però sicuramente conoscere queste espressioni avrebbe potuto fare la differenza per me quella volta a Londra quando nel posto ci vivevo davvero. Non sottovalutiamo l'importanza che i piccoli passi possono avere sommandosi l'uno sull'altro impariamo le basi e poi buttiamoci nell'arena e sporchiamoci le mani. Fare errori non solo non alla fine del mondo, anzi è il modo più rapido per imparare. Quando mi trovavo in India e ancora stavo migliorando sia il mio vocabolario che la mia pronuncia, che peraltro sto ancora migliorando a distanza di anni, per avere una semplice macedonia chiedevo can I have a plate of cat fruit please, solo che a me usciva puntualmente can I have a plate of cat fruit please, posso avere un piatto di insalata di gatto per favore, anziché posso avere un piatto di frutta tagliata per favore. Considerato che sarebbe suonato ridicolo ovunque ma che per di più ero in compagnia di soli vegetariani posso garantirti che alla terza volta ho imparato la pronuncia corretta. Solo a distanza di molto tempo ho scoperto che avrei potuto semplicemente dire fruit salad e mi avrebbero capito alla grande. Ma non siamo tutti work in progress, quindi bando alle ciance perché è arrivato come sempre il momento più entusiasmante di ogni ceci weekly insieme. Condividi qui sotto se ne hai voglia l'errore più divertente che hai fatto parlando o scrivendo in inglese finora. Vince chi fa più ridere quindi mi raccomando se proprio non ti va di condividere you're so boring. Lasciami un thumb up sotto al video o uno smiley per farmi capire che ti è stato utile. Noi come sempre ci vediamo al prossimo ceci weekly. Ceci? Sorry, sexy weekly. See you. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici e se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su cecilia.sardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio un grandissimo abbraccio di luce.